Sono Maria Virginia Teili, dottoranda dell'Università della Sapienza di Roma e oggi vi presenterò la casa suburbana per partecipare al premio maggio dell'architettura per prima volta. Prima volta, quindi è la prima volta che vieni a Cimetile. La prima volta che sono qua a Cimetile, veramente piacevole questo spazio, le basiliche, adesso comincerò a fare la visita così conosco di più. E quindi sarà una sorpresa per lei? Sicuramente, perché vengo da molto lontano, quindi capire questo... In Argentina ci sono? Sì, sì, in Argentina ci sono, ma non consiglio tanti anni fa le costruzioni. E quindi... È giovane il paese. È paese giovane. E quindi lei è un architetto di Argentina, eh? Sì, sì, ma adesso per fortuna sono qua a fare il dottorato alla Sapienza, quindi sto imparando anche le culture d'Italia. E quindi le culture nostre occidentali, è vero? Esatto, sì. Ok, grazie.